Un esempio del perché non bisogna mai giudicare guardando soltanto le apparenze, come questi cespulli ingialliti, secchi, freddi e bui, spenti, tra pochi mesi saranno meravigliosamente verdi e fioriti, già. Questo è il significato di ogni cosa, ciò che oggi è brutto, domani sarà meravigliosamente bello, come un sole momentaneamente coperto dalle nuvole, che resta comunque sia sempre un meraviglioso e acceso sole, anche se noi non possiamo vederlo oltre le nuvole, come non possiamo saperne vedere ciò che sarà domani.